18 kg di polvere da sparo, 10.000 cartucce di vari calibri, 90 kg di piombo per munizioni, con tanto di strumenti per la fabbricazione. Un vero e proprio arsenale a cui vanno aggiunti 16 fucili, tutti a uso caccia, rinvenuti all'interno del garage di un cittadino italiano di 54 anni, residente ad Empoli. E' un enorme quantitativo di materiale esplodente ben oltre il limite consentito, quello scoperto dai carabinieri forestali di Firenze. L'uomo con precedenti a carico non era in possesso di portodarmi, in quanto non rinnovato dalla Questura. Per quello che riguarda le armi, probabilmente si tratta di acquisti regolari effettuati nel corso degli anni. Per quanto riguarda invece materiali esplodenti, stiamo appunto approfondendo come sia stato possibile accumulare in casa un quantitativo così ampio sia di polvere da sparo che di piombo. La scoperta da parte dei forestali è avvenuta durante un'attività di polizia giudiziaria e ha portato al sequestro di tutto il materiale. E' stato denunciato a piede libero e sono stati sequestrati tutti i materiali esplodenti, le cartucce e gli strumenti, oltre agli strumenti per la caccia illegale, ovvero le reti da uccellagione e le trappole per gli uccelli.